Vedere velocità il mezzo meccanico, 8 al via, doppio chilometro, parte con cautela Rapido Holtz, si ritrae anche Raffi di Biel, il galoppo di Rino Jet, c'è lotta tra Retan to Griff e Razzelli Griff, i due compagni di Paddock arrivano apparigliati alla prima curva, Razzelli insiste a largo, Retan si oppone, è stato il galoppo contemporaneo sia di Remilor Font che di Rabin Maio, pancio velocissimo in 14 scarsi ed anche a sorpresa, Retan to Griff è partito più sollecito del solito ed assume il comando davanti a Razzelli Griff e Rino Jet, Poi Raffi di Biel, con F anche i Rabin Maio, ha rifiatato il leader che può arrivare al completamento dei 600 iniziali in 48 e 3, passaggio sulla retta delle scuderie, Retan to Griff, 2,22 euro, la quota del vincente, a gioco chiuso, percorre il primo giro in 1,4 e mezzo, l'ultima frazione addirittura l'ultimo quarto in 33,8, Retan, Razell, Rino Jet, Raffi di Biel, stentano a largo, adesso prova a progredire Record Regal, il primo chilometro è percorso in 1,19,3,15 l'ultima frazione, allunga Retan improvvisamente sulla retta delle tribune, Minopoli ha provato un po' il suo allievo, il galoppo di Record Regal, dopo una frazione in 15,5, rifiata ancora Retan, 17 la curva, allunga sulla dritta delle scuderie, Retan, Razell, Rino Jet, mancano i 500 metri circa alla conclusione, si sveltisce il ritmo, 15 secchi, l'ultima frazione, Retan in vantaggio su Razell e Griff, si prepara in terza ruota Rino Jet, Razell avvicina Retan to Griff, i calli entrano in retta d'arrivo, lo richiama a voce Mario Minopoli, richiama il suo allievo, cerca lo stacco, qualche difesa caratteriale, Retan to Griff, interviene Rino Jet a largo, Rino va su Retan che riparte e va a concludere, Retan to Griff, Rino Jet e Razell e Griff, gioca col cronometro Mario Minopoli ma soprattutto cerca di tenere gli avversari vicini perché il suo Retan to Griff non è un soggetto tanto semplice, conclude con un quarto in 32, ma basta a portare a caso il successo, su Rino Jet e Razell e Griff, quindi arrivo probabile ed ufficioso, 2-4-3 alla prima del Cirigliano, media probabile per 1-18-9, 1-18-9 per Retan to Griff, i colori del signor Giuseppe De Carlo, Mario Minopoli ancora protagonista sia come driver che come allenatore.